vediamo questo gioco vediamo com'è e poi mi dite le vostre le vostre opinioni se l'avete provato anche voi allora qui siamo nella hall sembra un po di posti abbandonati qui vedo una vhs anni anni 90 che li usavo anch'io quando vedevi ecco ciapata li preso allora qui c'è eccolo qua non so se lo mette dentro bisogna avvicinarsi ok adesso vediamo c'è qualcuno che sta parlando a televisore non so cosa da raccontare vabbè parla in inglese che non capisco già una mazza però va bene lo stesso parla ma a capire la lingua a capire la lingua le dura vediamo un po adesso vediamo un po qua vediamo si ho capito tutto come niente però va bene così vabbè adesso io un po continuo a parlare però vabbè buona giornata io vado mamma come scotta il telefono cioè appena inizio a giocare diventa bollente il telefono allora io un po ok andiamo vicino andiamo vicino aspetta com'è che era ah no ma non si può accipicchia ci vuole aspetta fare il giro di qua mamma mia già difficile ok qua vediamo se c'è qualcosa di interessante qua qua è chiuso vediamo che si può andare andiamo di qua ah ok qui è un negozio anzi c'è anche un treno che gira guardate qua il trenino che gira bello eh però io adesso sto cercando una cosa ma qua non c'è niente di che mi può interessare allora qui usciamo che tanto non c'è niente mamma come scotta il telefono sembra entrato un ah ecco bisogna fare i codici qua bisogna fare i codici qua vediamo vediamo un po allora mamma mia sto cosa qua allora andiamo ho zaccato subito eh vediamo adesso qua c'è un'altra vhs c'è un bel elefantino computer anni 80 90 che io le ho vissuti non so voi bella gente adesso qua bisogna ok vediamo ah sta presentando il prodotto due mani che catturano gli oggetti bella gente guarda qua diventa un super robot vediamo un po muove una mano muove l'altra e cattura gli oggetti li prende e li trascina verso se verso se ok ok molto interessante questa questa funzione si beh questa qua va bene immagini mica tanto allegra prova fin con manichino va tutto bene ringrazia anche ok adesso qua aspetta diamo mamma mia ok ok e la mano fu come si dice e mano fu bella gente e adesso andiamo avanti con la parte seconda che qua Grazie.